Il Comune di Napoli dà vita a un tavolo tecnico per il decoro, coordinato dall'assessore alla salute al Verde Vincenzo Santagada, con gli assessori alle politiche sociali Luca Trapanese e alla legalità Antonio De Jesu, per organizzare azioni di riqualificazione del territorio, a cominciare dalla Galleria Umberto e la Galleria Principe di Napoli. Nonostante gli sforzi dell'amministrazione in favore dei senza fissa dimora, infatti, l'emergenza Clochard non è mai finita e c'è da fare di più, come caldeggia il Presidente della Commissione Politiche Sociali del Consiglio Comunale, Massimo Cilenti. Sentiamo. Oggi discutiamo in Commissione la situazione grave che viviamo, soprattutto lì dove ci sono movimenti di grande importanza storico-artistica, oramai invasi da Clochard. Le politiche sociali, in cui l'ultimo anno, in modo particolare, hanno avviato tutta una serie di processi affinché queste persone possano trovare sistemazione d'accoglienza, per cui è inspiegabile che si trovino ancora nei monumenti di maggiore pregio, impattando in maniera estremamente negativa sull'immagine che si dà della città. Proprio in questo periodo, dove il turismo è in aumento, non possiamo consentirci che quel protocollo, che pure è stato sottoscritto tra la Curia, l'Asda e il Comune di Napoli, non abbia seguito. Chiediamo risposte concrete in tempi certi. Il tavolo per il decoro permetterà di avere un team operativo di raccordo tra la Polizia Municipale, i servizi sociali e la Prefettura, per le prime azioni che saranno concentrate sulle gallerie Umberto e Principe di Napoli, nel rispetto, sottolinea l'assessore De Jesu, delle fragilità umane e della vivibilità di queste aree.